Oggi presentiamo qui in Regione l'indagine che ADConsum Piemonte, Senato del Consumo Piemonte e ADO Piemonte, hanno realizzato in merito all'accessibilità delle stazioni piemontesi per quanto riguarda gli utenti con disabilità. Abbiamo preso in esame e campionato 60 stazioni delle 220 del Piemonte e sono emersi dei dati da un lato confortante e da un lato preoccupante, nel senso che le grandi stazioni che noi abbiamo preso in esame, come Porta Nuova, Porta Susa e quelle situate nei capoluoghi di provincia, hanno portato dei risultati positivi, cioè le stazioni sono pienamente dotate delle facilitazioni per i disabili, mentre quelle più piccole hanno ancora delle grosse problematiche. Abbiamo chiesto a Regione Piemonte e l'Agenzia per la memorità piemontese di accelerare i lavori per la manutenzione delle stazioni che non sono ancora dotate, sperando che presto possano avere anch'esse le dotazioni necessarie per i passeggeri disabili. Grazie a tutti!